Però i governi francesi e inglesi si incontrano segretamente. Questa sua capacità di stare con la gente, di stare con me, di farti sentire bene, allegro, felice, mi attrae molto di lei. Io riesco con la mia ragazza a vivere un fidanzamento, un rapporto più profondo cercando di fare entrare Dio nella nostra relazione. Se fossimo soltanto noi probabilmente non riusciremmo ad avere qualcosa di così bello come quello che abbiamo. Il cristianesimo ti dà quel qualcosa in più perché tu ami l'altra persona amando Dio. Questi mesi che sto con Federico e da un anno e qualche mese che stiamo insieme, ogni giorno cerco di capire come renderlo felice, come veramente posso donarmi al 100%. Le difficoltà appunto vengono anche da noi stessi oltre che dagli altri, cioè anche noi dentro di noi abbiamo appunto dei desideri, degli impulsi che sono quelli che poi la gente ci suggerisce di fatto. Se parlo con un amico, la maggior parte dei miei amici mi dirà, no ma tu devi avere rapporti sessuali con la tua ragazza perché se tu non hai dei rapporti con lei allora il vostro fidanzamento è incompleto. E invece no, non è incompleto, anzi è qualcosa di più puro, che sappiamo che quello che viviamo adesso non è per adesso ma è in vista di qualcosa che sarà per sempre. Le dimostrazioni che si possono avere tra due fidanzati sono alte, quello di passare del tempo insieme, di cercare di creare un'intesa, un'intimità che duri per sempre. Poi è chiaro che da un punto di vista fisico è anche bello avere un contatto, stare insieme, ma per questo basta un bacio, basta una carezza, che sono delle dimostrazioni di affetto molto grandi se sono fatte con il cuore. Quindi ci aiutiamo in questo e serve tanto, cioè io mi sono resa conto che con Federico sono più attenta alla mia vita spirituale, poi anche a lui, cioè stando attenta anche a lui, quindi preghiamo insieme e ci aiutiamo anche in questa cosa, proprio perché ci appoggiamo completamente a Dio. Cerchiamo appunto di avere ognuno una sua vita di preghiera che sia un po' il fondamento di ciascuno per frequentare Dio, per conoscere meglio Dio e a volte di farlo insieme, no? Cioè di pregare sia come singoli sia come coppia. È difficile avere delle sicurezze nella vita, però è anche vero che appunto per amore probabilmente vale la pena rischiare qualcosa. Se non si rischia per amore, per cosa si deve rischiare? Grazie. 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 Grazie a tutti.